Dopo faccio un po' di cripto, dopo faccio un po' di immobiliare, stralcio, fai una che funziona e dopo fai le altre! Quando mi dicono tante attività, no, una che funziona, una che funziona, no tante! Ho fatto la formazione quando Harwell è arrivata al 17-18% di EBITDA e potevo tranquillamente occuparmi anche di altro!